Dopo aver trascorso una notte in tranquillità in uno dei letti dedicati all'osservazione breve all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Meyer, Nicola Tanturli, il bambino ritrovato a termine di 30 ore di ricerche in una scarpata dell'Alto Mugello, è stato dimesso dal pediatrico fiorentino a termine delle 24 ore di osservazione. Le sue condizioni sono buone ed ha così potuto fare ritorno a casa. D'altronde il carabiniere che per primo lo aveva raggiunto aveva subito notato che non era necessario neanche l'intervento della barella. Non ho riscontrato fratture se non qualche graffio riconducibile ai rovi del bosco e un piccolo bernuccolino che aveva sulla testa ma niente di importante per quello che ho deciso anche di riportarlo sulla strada con molta difficoltà anziché farlo venire a recuperare perché poi si intervengono e gli specialisti lo mettono sulla barella spinale. Un conto consegnato alla mamma in braccio e un conto su una barella quando effettivamente non ne aveva bisogno a mio avviso. Ma è proprio la mancanza di ferite profonde e lo stato di salute complessivamente positivo del bambino a far sorgere qualche punto interrogativo sulla vicenda. Due notti alle adiaccio proverebbero chiunque maggior ragione forse un bambino il quale è uscito di casa col buio ma con le scarpe ai piedi nonostante la tarda ora e poi il buco di nove ore nel dare l'allarme il padre affermato che si è trattato di un errore dettato dal fatto che era sicuro che lo avrebbero trovato senza bisogno di aiuto. D'altronde anche il fratellino più grande di Nicola si era smarrito. È successo un anno fa ma le ricerche in quel caso erano durate meno nonostante come nell'ultimo caso avesse percorso una considerevole quantità di strada. Ma è un episodio che finirà nel rapporto che gli uomini dell'arma stanno redigendo sulla vicenda. Nel frattempo la procura di Firenze ha aperto un fascicolo senza però al momento ipotesi di reato.